La coppia più mediatica del momento potrebbe essere in dolce attesa, sono solo rumors, voci di corridoio, fatto sta che secondo i ben informati Shakira starebbe aspettando un figlio dal difensore del Barcellona Gerard Piqué di 10 anni più giovane di lei. Ad innescare il tam tam di voci sarebbe stata l'improvvisa decisione della cantante di cancellare per problemi tecnici un concerto previsto in Almeria. Ne da notizie il quotidiano portoghese Giornale Noticias, secondo il sito Diario Show il rinvio potrebbe essere stato invece deciso per problemi di salute, cioè perché la cantante potrebbe essere incinta dalla coppia per ora non è giunta alcuna conferma. Grazie a tutti.